Con gli amici in carcere, ogni volta che ci incontriamo stiamo cantando sempre una canzone bellissima insieme, e che cantiamo insieme guardando Gesù crocifisso, il crocifisso di San Damiano, il crocifisso che ha parlato a Francesco d'Assisi, cantiamo insieme, io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me, vedi non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi prendi me, ecco perché Dio si è fatto uomo ed è nato in una stalla, perché è voluto morire su un chiuvato a una croce, per me, per te, per tutti, quindi chi prega si salva, chi non prega così si danna, a commento di tale frase aggiungeva, il salvarsi, insomma, senza pregare, è difficilissimo, anzi, impossibile, ma pregando il salvarsi è cosa sicura e facilissima, e ancora gli dice, se non preghiamo per noi, non ve scusa, perché la grazia di pregare è data ad ognuno, se non ci salveremo tutta la colpa sarà nostra, perché non avremo pregato, dicendo quindi che la preghiera è un mezzo necessario, Sant'Alfonso voleva fare comprendere che in ogni situazione della vita non si può fare a meno di pregare, quando ci si sposa, io accolgo te e con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, ecco, si può fare, non si può fare a meno di pregare, specie nel momento della prova e delle difficoltà, Gesù ha pregato, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo significa pregare, rivolgersi a Dio, sempre dobbiamo bussare con fiducia alla porta del Signore, sapendo che in tutto Egli si prende cura dei Suoi figli, di noi, per questo siamo invitati a non temere di ricorrere a Lui, un nome spagnale, e di presentargli con fiducia le nostre richieste, nella certezza di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno e ciò di cui noi abbiamo più bisogno, come vedremo dopo domani, domenica, è che Gesù sia il vero pane della nostra vita, perché solamente con Gesù noi possiamo accettare la volontà misteriosa di Dio, che permette anche la sofferenza, permette la morte. la certezza di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno, ma io, in fondo, di che cosa ho bisogno? Che a campo cent'anni, a campo cento e cinquant'anni, è questo il mio vero bisogno. E poi se a campo io cent'anni, cento e cinquant'anni, e l'altro che non ci hanno campato, cent'anni, cento e cinquant'anni, e l'altro che non hanno avuto la salute, l'altro che non hanno avuto l'occhio, che non hanno avuto le gambe per camminare, che non hanno avuto persone care, che non hanno avuto una mamma, che non hanno avuto uno padre, ecco perché sono affezionato a Marcellino Panevini, perché non l'aveva conosciuto né la mamma né il padre, però i monaci ci hanno fatto canosce Gesù Cristo, e chi sa potenza, questo è il vero bisogno, chi ne risponde alle domande vere della nostra vita, chi fine facciamo? Ecco, questo è il bisogno di cui, ciò di cui abbiamo veramente bisogno, non solamente a salute, a un benessere. Cari amici, questa è la questione centrale, che cosa è davvero necessario nella mia vita? Rispondo con Sant'Alfonso, la salute è tutte le grazie che per quella ci bisogna, ma attenzione, non è solamente la salute del corpo, naturalmente egli intende non solo la salute del corpo, ma anzitutto quella dell'anima che Gesù ci dona, è quella gioia di cui parla Benedetto XVI, la gioia, la gioia, la gioia vera, non chi la ha mossa, più che di ogni altra cosa abbiamo bisogno della sua presenza, della sua presenza liberatrice, che rende davvero pienamente umano e perciò ricolmo di gioia il nostro esistere. E solo attraverso la preghiera possiamo accogliere Lui, la sua grazia, che illuminandoci in ogni situazione ci fa discernere qual è il vero bene e fortificandoci rende efficace anche la nostra volontà, cioè la rende capace di attuare il bene conosciuto. Spesso riconosciamo il bene, ma non siamo capaci di farlo. San Paolo lo diceva, vedo il bene, l'approvo, chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Ecco, siano rese grazie a Dio perché ci ha donato Gesù Cristo, sua figlia. Quando ci avviciniamo a Gesù e a Gesù crucifisso riceviamo veramente questa grazia. Con la preghiera arriviamo a compierlo. Di fatto la preghiera cristiana è vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. Il discepolo del Signore sa di essere sempre esposto alla tentazione e non manca di chiedere aiuto a Dio nella preghiera per vincere la tentazione. E di fatto Gesù non ci ha insegnato una preghierina a festa buona e salute. non ci indurre, non ne fa cadere la tentazione di non fidarci di te, ma liberaci, liberaci dal male, dal maligno. Ecco, questa creatura strana, misteriosa, spirituale, che cerca di entrare e di dividere il nostro cuore. Sant'Alfonso riporta l'esempio di San Filippo Neri, un altro grande, molto interessante, il quale dal primo momento in cui si svegliava la mattina, diceva, non mi faccio così amici miei, dobbiamo seguire i santi, imitare i santi. San Filippo Neri, dal primo momento in cui si svegliava la mattina, diceva, Signore, tenete oggi le mani sopra Filippo, perché se no Filippo vi tradisce. Ecco, questa è la preghiera che Giancarlo deve fare la mattina. Signore, tena la mano sull'accapo, perché se no ti tradisce. Quindi nessuna meraviglia per chi tradisce, per chi rinnega, per chi pecca, per chi senza la grazia di Dio, un simunente, senza di te siamo sommersi in un gorgo profondo, di peccati e di tene, perché questa è la verità. il tuo braccio potente mi conduca a un approdo di salvezza, di pace. E il braccio potente di Dio è Gesù Cristo, nostro compagno, nostro amico, compagno inseparabile della nostra vita. Appena rapiamo lui, chiamatela. Signore, tena la mano sull'accapo, perché se no ti tradisco. Grande realista, dice Benedetto XVI, grande realista San Filippo Neri, egli chiede a Dio di tenere la sua mano su di lui, anche noi. Il Papa, appena è stato eletto, il Papa, questo ci ha chiesto, pregate per me, perché sapeva quanti lupe, rapaci ci sono in giro, anche nella Chiesa. Anche noi, consapevoli della nostra debolezza, dobbiamo chiedere l'aiuto di Dio con umiltà, confidando sulla ricchezza della sua misericordia. In un altro passo dice Sant'Alfonso che noi siamo poveri di tutto, ma se domandiamo non siamo più poveri. Se noi siamo poveri, Dio è ricco. E sulla scia di Sant'Agostino invita ogni cristiano a non avere timore di procurarsi da Dio con le preghiere quella forza che non ha e che gli è necessaria per fare il bene. Nella certezza che il Signore non nega il suo aiuto a chi lo prega con umiltà. Cari amici, Sant'Alfonso ci ricorda che il rapporto con Dio è essenziale. Diceva Don Francesco Mottola in una preghiera a Gesù ho bisogno di te come dell'aria ad ogni istante perché la vita stroncata dall'asfissia non muoia. Abbiamo bisogno di Dio e Dio si è fatto uomo. Abbiamo bisogno di Gesù Cristo come abbiamo bisogno dell'aria perché se no soffochiamo. Sì, sembra che viviamo, ci muoviamo, ci affanniamo, ma non c'è vita dentro di noi. C'è la morte, ecco. Sant'Alfonso ci ricorda che il rapporto con Dio è essenziale nella nostra vita e quanto è importante che noi incontriamo queste persone. Non persone che ne parlano in Gesù, che ne dicono, leggi come sono. Ci sono leggi bellissime, leggi umani e leggi divini. Ma chi ne è mindi, brate? Se non preghiamo, se non sopplichiamo a Dio di darci la sua forza. Vi ricordate il messaggio della Madonna del 25. Pregate Dio. Cari figli, oggi vi invito al bene. Siate portatori di pace e di bontà in questo mondo. Pregate che Dio vi dia la forza affinché nel vostro cuore e nella vostra vita regnino sempre la speranza. Dio vi deprovì. E la fierezza, perché siamo figli di Dio e portatori della sua presenza. Se uno figlio domani chiede a una mamma, ma perché facciamo tutta questa fatica pur a mangiare, a nevesta, a me comprare... Figli, non ti preoccupare, con il Signore Dio vi ti provvede. Ecco la speranza. Ma dobbiamo pregare, carissimi amici. Quindi, Sant'Alfonso e i Santi ci ricordano questa verità semplice. Senza il rapporto con Dio manca la relazione fondamentale e la relazione con Dio si realizza nel parlare con Dio, nella preghiera personale quotidiana. Perciò noi iniziamo questo nostro incontro sempre con le immagini di Marcellino, pane e vino, che parla con Gesù. Nella preghiera personale quotidiana e con la partecipazione ai sacramenti. E così questa relazione può crescere in noi, può crescere in noi la presenza divina che indirizza il nostro cammino, lo illumina e lo rende sicuro e sereno anche in mezzo a difficoltà e pericoli. Grazie, dice il Papa, che noi gli diciamo grazie a te per questa bellissima catechesi sulla preghiera. Allora concludiamo questo nostro incontro, fermiamoci un pochettino, carissimi amici, e uniamoci alla Madonna e a San Giovanni Evangelista, apostolo ed evangelista che sono ai piedi della croce, così rappresentati, così rappresentati così bene da Mel Gibson in questo film, e poi consacriamoci alla Madonna, consacriamo tutto noi stessi, tutte le sofferenze, che Gesù sceglie per ognuno di noi, perché abbiamo bisogno anche di soffrire, perché certe cose, se non ci sbattiamo, con la capo io uprimo, un ne capisciamo, però non dobbiamo avere paura. Allora concludiamo questo incontro, ci diamo la rivederci al prossimo venerdì, ma sempre a Dio piacendo, e chiediamo la grazia allo Spirito Santo che ci faccia pregare, ecco, e ci faccia entrare in contatto con Dio, con il suo amore, quindi raggiungere questo scopo, perché il mezzo è per raggiungere lo scopo, sperimentare la misericordia di Dio. Arrivederci, al prossimo venerdì, a Dio piacendo.